Farker 4 Comunque intanto prendiamo le munizioni che a male non fanno Avanziamo non so che minchia devo fare Però continuo ad avanzare Non so cosa bisogna fare Intanto vedo in alto nemici uccisi 2 su 33 Perfetto io intanto sto avanzando Sto tipo il Gesù come Come armi Che cazzo le munizioni Sto prendendo tutte le munizioni Ecco i nemici Ok quelli sono i nemici Perfetto oh sto morendo Non so che minchia si deve fare in questa mappa Oh porca troia Beh figa Cioè ma che cazzo è sono morto E ma che cazzo devo fare Si sono morto l'ho capito Reggiochiamo la mappa Cioè ma che cazzo devo fare Vediamo che minchia devi fare Allora ragazzi ovviamente il gioco Ha delle modalità multiplayer con altre persone Che sono modalità van posto Maschera del demone Comunque altre modalità molto interessanti Che se volete ci porterò alcuni video Intanto sto facendo sta mappa che Sembra figa E quindi la giochiamo insieme Ok intanto stanno prendendo fuoco i nemici Voglio provare a non morire E a riuscire a creare questo obiettivo Questo è un cazzo di kamikaze Non venire Non tazzardare a venire accanto me Oh porca puttana Eh guarda che mi fa scoppiare il barile Oddio oddio sono vivo Sono vivissimo Sono vivo Dai estrai i pezzi di barile dalla tua fottutissima mano Oddio sei un grande Che nemici uccisi 6 su 33 Non so che roba sia Queste mappe sono fighissime Presuppongo siano fighissime E ce ne sono davvero tantissime Penso sia anche la cosa più interessante Di questo Far Cry Questa nuova aggiunta di quest'anno Che c'è questo editor di mappa Intanto vi lancio le granate A voi juggernaut sembrate Ve lancio tipo a non finire Pezzi di merda Datemene a fanculo Deve stare attento al cecchino Che mi ha ucciso prima lì in alto Eccolo eccolo Muori pezzo di merda Perfetto intanto 10 su 33 Ottimale Ottimale Cazzo di juggernaut Ancora è sopravvissuto Ti lancio anche Ah Lancio pezzi di carne Perfetto Che ti lancio anche una Ah Cosa cazzo posso lanciargli Una molotov Ok Ma vai a fanculo Curati Ah Si sono spawnati un fottito i nemici Un fottito i nemici Si sono spawnati brutta roba Bruttissima roba ragazzi Bruttissima roba Oddio le schimese Oddio gli schimese Dio santissimo Cristo Oh ma che cazzo è Ma vaffanculo Ce la devo fare Non mi incazzo Ah potevo entrare qua dentro A prendere le munizioni Minchia non ci ho pensato Adesso facciamo statosa Minchia guarda che mappa impossibile Lancio la canata La canata alla sotto Così già Tutti quelli crepano Boom Ho fatto canestro Nei loro corpicini Inermi Lì proprio Non se l'aspettavano Che arrivava questa sorpresina Dal cielo Dal cielo Tanto posso ritornare indietro Yes Ma la posso anche camperare Qui tranquillamente Aspettare Che gli stronzi vengono E me li mangio Dai vieni Pezzo di merda Sì adesso Usiamo la tatticità Perché Li devo uccidere tutti Minchia fighissime Ste mappa cazzo Allora Andiamo Leggermente Adesso Allora Sta scimmietta ha rotto il cazzo Io ammazzo la scimmia Vaffanculo Ammazziamo la scimmia Ok Non so perché Dicendo scimmia Vengono in mente Quello sul server Però Capito Ognuno Pensa quello che cazzo vuole Ops Ops Non fare scoprire Quel fottutissimo barile Perché altrimenti Tutte e due d'accordo Non scenderemo mai Ok adesso ci dovrebbe essere I jungerland Che farò fuori A colpi di granate Aspetta E qua dietro ce ne ho uno Ah Ah Porca puttana Ah Questi bug Questi bug Curati 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 Oh munizioni Munizioni qui Munizioni qui Munizioni qui Intanto ricarichiamo Intanto ricarichiamo Perfetto munizioni 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 Mi devo curare ancora Madonna Dai Prendi la munizioni Intanto Ok perfetto Curiamoci ancora Guarda che c'avevo un bastone Appizzato nel Nel braccio Ehi Razzi Munizioni shotgun Si l'ho capito Però come cazzo faccio a cambiare arma Ah ecco Così cambio arma Con uno e con due Però tipo lo shotgun Dove mica lo trovo Non ce l'ho Lanciamo queste cose qui Bomb Perdete fuoco Ok aspetta che io lancio Dovrei avere delle granate No Vittoria Vabbè no Vabbè no Vaffanculo Li faccio prendere fuoco E andatene tutti a morire Porca troia È scoppiato qualcosa Sicuramente sarà esploso quel barile Ma siamo alle schimese Intanto siamo a 15 nemici Su 33 Allora qui posso Posso switchare con che cosa Cos'è sta cosa Non ho ne idea Oddio Oh fighissima sta arma È tipo Un mitragliozzo di quello violento Ok 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 Adesso aspettiamo L'altra Gli altri amici che si spawnano Eccoli qui Stanno arrivando Bomba Questa è l'arma del secolo Questa è la fottissima arma del secolo È troppo figa Dai Venite Ma perché siete Siete vestiti da fottuti eschimesi Oh 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 Ok ok Ti stai incazzando Bomba muori 18 su 33 Siamo quasi Siamo a metà dell'opera Siamo a più di metà dell'opera Oddio posso Posso scogliarmi la scemmia Non l'ho scogliata la scemmia Così l'ho scogliata la scemmia Volevo vedere il coltello Che lo sgozzava Ok Ecco qui che ci sono di nuovo I miei amicozzi Vi aspetto a braccia aperte Oh Cristo Quelli sono kamikaze Bastardi proprio Adesso vi chiudo il passaggio Bomba Con questo gioco Una grafica fighissima Che potete vedere Veramente Una grafica assurda Eccoli 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 Bomba Dai Madonna Madonna Ok ottimo Ottimo Oh 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 Non mi incazzate Allora prendiamo delle munizioni Prendiamo delle munizioni Oh aspetta che sento troppi rumori Quello è un nemico lì Ok è un nemico morto Questo è un nemico vivo Adesso è morto Non è più vivo Ok siamo a 22 su 33 Ammattiamo anche quello Perfetto Ammattiamo anche questo Mamma mia Sto andando proprio Andando avanti Tranquillo Adesso Adesso tipo arriva qualcuno Dal cielo E mi sciotta Evidentemente Intanto usciamo Vediamo se Qui si spawnano Altri nemici O che comunque Il livello avanza Sì il livello avanza A bestia Vediamo Adesso qui troviamo 65 juggernaut 82 82 nemici Iper cattivi E una statua Salve Come sta Signora statua Con le tette enormi Potrei venire Sulle sue tette No ok Quello è un doppio senso Oh un eschimese Un eschimese Un eschimese Oh non muore Oh 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 è un comodo Tranquillo 25 su 33 Cazzo sono tutti qui Sono tutti qui Fottuti eschimesi Eccoli qui Eccoli qui Mi devo uccidere tutti Un altro Ok perfetto Oddio non ho più munizioni Non ho più munizioni Prenderò quest'arma Non so che arma sia Però se ce l'hanno loro Mi piace Se ce l'hanno loro Mi piace No è il lanciafiamme Oddio Oddio il lanciafiamme Oddio il lanciafiamme Che è figata Sto lanciafiamme Che è figata La grafica del signore Oddio il razzi Oddio il lanciarazzi Oddio le sto provando tutte Le sto provando tutte Mancano Mancano Quattro nemici Quattro nemici mancano E sono qui Madonna del dio Madonna di dio Ok mancano gli ultimi tre nemici Gli ultimi tre nemici Non sono qui Però Ora se Mi do tipo L'arrazzata in testa E mi uccido da solo Tipo alla fine Sono l'epic fail Della storia Oddio è partita la cassa Con le munizioni È partita tipo qualcosa Cioè ho tipo Alimentato un qualcosa Lì Che dovrei avere una pistolina Ok la pistolina Può salvarmi la vita Se è l'ultimo nemico Non può essere così nocivo Ok ho finito Ho finito Sì Ho finito Comunque ragazzi Per questo video di far creare tutto Questa era una delle mappe Delle tantissime mappe Che appunto Che sono appunto State create Dalla comunità Se vi è piaciuto Invito a farmelo sapere Con un bel like Con un commento qua sotto Se voi avete giocato O comunque avete creato Qualche mappa Figa Che volete farmi giocare O che comunque Vi piace parecchio Consigliatemi nei commenti Vedo di trovarla appunto Nell'editor Nel browser di mappe E di giocarla qui Realizzandoci dei video Ciao ciao Ciao